Villino Matricardi Cola, meta di villeggiatura per famiglie benestanti che qui fecero realizzare la cosiddetta seconda casa, affidandosi spesso a noti architetti con esperienze metropolitane che trasportarono sul litorale caratteri e influenze proprie dell'art nouveau, sebbene in ritardo rispetto ai grandi centri di diffusione di questo stile. L'esempio più pregevole di architettura Liberty a Grottamare è il villino Matricardi Cola, progettato nel 1913 dall'architetto Cesare Bazzani, nella zona a ridosso del lungomare. Sul lato ovest e precisamente sul basamento dell'Altana è scolpita una scritta che ci permette di risalire alla data di costruzione e al proprietario, che indica Giuseppe Maria Matricardi, 20 agosto 1913. La facciata orientale è progettata in funzione della vista sul mare, con le ampie finestre e la grande porta, fiancheggiata da due vetrate all'interno di un arco ribassato. Al di sopra dell'entrata c'è un balconcino sul quale si aprono due porte finestra. I quattro lati dell'edificio presentano un cornicione poggiante su mensole aggettanti, che creano un suggestivo effetto plastico. Al di sotto del cornicione sono collocate delle formelle in maiolica, dipinta con festoni floreali e vegetali, realizzati dai decoratori Polci e Castelli, che lavoravano per la manifattura di maioliche del Matricardi. Ad ovest, tra le maioliche decorate, sono presenti le seguenti scritte, Maioliche Matricardi Ascoli Piceno e Ascoli Piceno, posta sotto il castello in fiamme, un chiaro riferimento al proprietario della villa. Il prospetto ovest è caratterizzato da un'altana dipinta con un fitto intreccio di arance e motivi floreali, che creano illusionisticamente un pergolato. La torretta, elemento che caratterizza molte ville di grotta a mare, è giustificata nelle costruzioni del lungomare anche dai ristretti spazi nei quali sorgono, che determinano il bisogno di uno sviluppo in altezza, anche se a volte le altane hanno esclusivamente un valore decorativo e non funzionale. Le maioliche decorative esterne furono dipinte su disegno di Alfonso De Carolis, che in questi anni collaborava con la manifattura di ceramiche di Giuseppe Matricardi, mostrando in questo modo una grande attenzione per le arti applicate. L'interno della villa presenta delle decorazioni delle pareti e del soffitto nel soggiorno e nella sala da pranzo, al piano terra, con motivi floreali e faunistici, probabilmente realizzate dal pittore Egidio Coppola.